Chi ha successo nel network marketing vede la verità su quattro punti precisi. Uno il network marketing, due la società, tre se stessi, quattro gli altri. Dopo aver trattato il punto numero uno, oggi trattiamo il punto numero due, ovvero l'azienda di network marketing, la società. Se il valore cessa di raggiungere la base, la forza cessa di risalire ed il sistema crolla. Cosa significa? Significa che è necessario associarsi ad un'azienda con una storia sul mercato e dal comportamento etico. Comportamento etico significa l'azienda commercializza prodotti di qualità. Le opportunità di guadagno si basano esclusivamente sull'effettiva vendita di prodotti. Investimento iniziale minimo e coperto da garanzia di soddisfazione. Solide opportunità imprenditoriali a lungo termine. Alti standard di tutela del consumatore come la garanzia di soddisfazione e il diritto di recesso. Trova il contrario di questi punti e sei davanti ad un sistema piramidale. Così ci allacciamo al punto uno di questa rubrica in quattro step. La frase, il valore è necessario che raggiunga la base, significa anche comportamento etico e attento dei leader, ovvero di chi ti guida nel percorso. Tradotto, qualità come ascolto e considerazione di ciò che fai nel business. Sono imprescindibili nelle persone che hanno più esperienza di te. Per il punto uno e due potresti rivedere il video come vedete il network marketing. Prima parte, al canale YouTube Luciana Network Cambia Mente.